Bella raga, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Fortnite e siamo in un gameplay, solo che oggi non c'è la webcam, quindi vorrei chiedervi nei commenti se vi piacciono più i video con la webcam o senza webcam, così posso capire se registrare sempre con la webcam e quindi cercare di avere sempre la telecamera carica. Comunque con la nuova opzione di YouTube, non so se la conoscevate, ma se lasciate like il pulsantino diventa blu, provate. A parte queste cazzate raga, buona visione. Vi dico solo che è stata una partita fenomenale, cioè è fenomenale per me, bella. Ah, l'ultima cosa e poi vi lascio il video. Raga, ho scritto un hashtag nascosto nel video, chi lo trova e lo scrive nei commenti verrà salutato nel prossimo video. Mamma mia raga, ma prima l'abbiamo fatta tutta a corso. Qui ragazzi non ho armi. Minchia non ce la farò mai a fare tutte quelle kill, no ma dai, no, 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 no. Dove sei? Eh, no, 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 stiamo a cercare la palestra. Porco tu. Ma io non ho armi. Io ho una pistola per te, la pistola poi, io so solo. Eh, è una, è una revolvera, è quello il problema. Eh, c'è una pistola per me normale, non è. Ma ho trovato in tre colpi ora, tu, senti. Io comunque gli ho tirato le granate dove era... io dove, eh. Vieni, fotonimo, vai. Ci sto, ci sto io, ci sto io. Ma è un'altra pompa, no. Eccolo. Qui c'è anche un... Ma non c'è l'etta, mannaccio, ciò. Sono lì dentro. Regà, bevo gli scudini e vengo. La data abbiamo atterrato, quindi... Era uno, era uno. Ma non è morto subito. No, no, era andato a terra, però vabbè. Eh, appunto. Ma quello è il micro, ma che anche da me c'era uno qua contro la scala e tutto, ma non c'era nessuno. C'è un pompa, eh, qua, Gabby. Sì, sì, ce l'ho già. Che pompa? Di che colore? Sì, mi ha tomato il grigio. Ah, ce l'ho già. No, no, ci si rimetteva a terra blu. Venite a prendere forte forte? Anzi, no, lo tengo io. Avete mini scudi? Sì, ce l'ho io uno. Passa che c'è uno scudo grande. Sì, ce l'ho lasciato dentro. Dove è dentro? Dentro qua. Dentro qua, dove sono io? Ah, porco... Stavo seguendo Gabrielo. Dammi uno. Ragazzi, dammi... Merda. Arrivo, Gabrielo. Porca troia, avanti cazzo sono dentro del muro? No. No. Sono in 300, ragazzi, per prendere il muro. Stato. Ci fa piacere. Colpito. Ora, cavolo, mi cuscia. Alla testa, l'ho colpito. Minuto. Eh, merda, bacca. A terra. Colpito alla testa. Raga, sparate. Raga, vai. Pushiamolo. Dove stanno? Dove stanno? Venite, 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 venite. Sì, sono un po'. È sotto, è sotto, è sotto, è sotto, scala, levatevi. Ma per rocco? Ok, è eliminato. Io mi sono guadagnato uno scar. Ma lo matto c'è lo scar? Eh, appunto, se ne ha preso un qualcuno di numero 166. Io? Ma cosa stai dicendo? Non mentire. Porco 2 però, in meno di... C'è la... Porco... Oh, non so parlare. Lasciamo stare, va. Non parlo proprio. Non parlo proprio. Scildini? Scildini? No. Tu? No. Eh, se te li chiedo, vuol dire che non c'è gioco. Cioè, spiega. Cioè, dai, un po' di cervello. Mi servono materiali, quanti ne avete? 216 e basta. 900 e tu. Dammi, subito. Sto scherzando. Chi se ne frega, ormai l'hai detto o me lo dai? Eh, certo. Aspetta, vieni, te li posso dare, vieni se ne... Vediamo cosa mi butta, vediamo. Ma mi butta qualcosa. Stai scherzando. Guarda, oh, che gentile... Ah, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Mi faranno utile. Mi faranno utile. Minta è galvanese. Ma tu chiedevi Scudini in secimo. Sei fuori. Ah, ma stavo scherzando. Quando tu hai detto... Avete Scudini. Stavo scherzando, ha detto... Ce li hai tu? Eh, ma se te li chiedo... Vuol dire che non c'è gioco. Vuol dire che non c'è gioco. Cazzolini. Non ridere per favore. Non prendi il culo a me. Non dai, non prendi il culo a me. Dai. Andiamo. 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 Ma la fa... 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 Io ho 340, 31 e 1. Per quanto costruisci te, sì. Vabbè che io costruisco. Boia, vacca. Oh, mi puoi... Ah, fai il culo, eh. Dai, tu. Dai. Ma... 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 Boia. Sì, ma l'automira dei controller dovrebbero abbassarla un pochino. Sai, ma tu stai giocando più con il controller? No, io gioco sempre con mouse e tastiera. Bravo. È inutile che me la fai sta domanda. Raga, colpi per il pompa ne avete? Quanto ne hai? Cinque. Grazie, Gabrielo. Non mi ha dato i miei rischi. Qui davanti dove? 360. 360. Quale fabbriche? Fabbriche, fabbriche. Dai, Valo. Sono tutti tua. Li manca un colpo. Valo, ce l'hai sopra. State zitti. Malavissimo. Perché siamo voluti in merito? Ma cosa? Dai, l'ho preso in testa. Raga, non ho butto con la terra, eh? Raga, non ho butto con la terra. Il mestiere là è... Cazzo. Pancio. Ragazzi, scudo. Tu, madre, per tutto. Fa' un pochino. Raga, ma... Quel mestiere là? Ammazzato con il mio mestiere là? Eh, ci provo. Dov'è che è? Con la palestra. No! Spara! Spara! Dai, spara! No! Questo c'ha proprio l'inverno. Ha detto non ci uccidere. Ho 13 di vita. Vieni da me, 16. Oh, porco tu! Cosa fai con la palestra? Oh, uno sa giocare. Bravo, 16. Se io so giocare... Tu sei madre Teresa. Ma di qualcuno... Ti sei offeso da solo. Ok, quello eliminato. Oh, dai! Dai, Gabri, madonna. Ce n'è un altro... Colpito, colpito, colpito. Finalmente! Mi servono colpi... Ah, ok. Cazzo! Tegi! Ammazzare la testa! Morci! No, l'hanno ucciso, l'hanno ucciso! Fai, è scoppiato, è scoppiato male! L'ho visto scoppiare male! Mi sono... Mi sto bloccando! Ho visto scoppiare male! L'hanno usato una cecchinata! Guarda lì come... Con il suo lapissino... Che culo! Vado in cesto! Prenditi le bande! Vabbè, prendi, vai! Vado a capire! Vado a mettere il medico! Ma come è scoppiato? Ma vero! Vedo sparare... Ora non sono in scaletta! 3, 2, 1, 0! Che petto di merda ne sono! Oh mio Dio! L'hai centrato? Quello che sparava da di là, sì! Sì! Mi devo mettere un'altra cuffia! Vai, vai! Pusha! Vai, pusha! Pushiamo! Vieni, 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 vieni! Vai, vai, capri! Vai, capri! Vabbè, se per il mio po' di danno non fa niente! Vai! Vai, vai, vai! Spara quello lì! Vai, vai, Gabriele! Gabriele è lì! Gabriele! Dai, 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 dai! Eh, sono tre, sono tre! Gabriele, si è che si usi! Una terra, una terra, una terra! Sigi! Ehi! C'è un altro a destra! C'è un altro! Entra in centro, Gabriele! Oh! Bello! Sigi, sigi, sigi! 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 Vieni, vieni, vieni! Copri, copri, copri! Copri, ti arrivano ciò una famiglia di stiale, Gabriele! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? No, guarda, soltanto ci avevano di buono qui! Per vedere... Un po'. Aspetta, eh! Eh, quello lì più vicino forse sì! Eh, c'hava degli scudi! Un po' là! Che l'ha sparato? Ah, io no! Eh, nemmeno io! Ecco, ora ho sparato io per sbaglio! Eh, però son coglione! No, Gabriele, metti tu! Ecco, è qui, è qui, è qui! Due bande! Metti due bande! Sparati, sparati! Eh, non c'ho le bande! No, 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 no! No, la mappa, la mappa! Mi si è aperta la mappa! Ancora! Metti il falò! Gabriele, metti il falò! Eh, sì, aspetta! Oh, non mi fa mettere, di Dio! Raga, ho tre di vita! Vengono a me c'è il falò! Devi entrarci, eh! Puoi farlo continuare, mi provo di... Eh, lo so! Vengono a lui! No! Oh! Vuoi mettere una scala! Porco Dio! Mi cuore un cazzo! Trappa, fra! Servante razzi! Aspetta! Hai la porta lì! Colpito! Voi la Gabri! Ok! Ora voglio ridere! Vai! Ma chi è che ha le campane? Io! Io! Bravo, che bella! Bravo, Gabri! Siamo a due contro sei! Dalla sei sul bombolone! Se ci tieni il bombolone! Se ci tieni il bombolone! Se ci! Mi devo coprire! Prendi la scuola, Gabri! Sì, perché... Ok! Ah, minchia! C'è una razzi? Sì, sì! Razzi? Oh, cazzo! Eh! Aspetta! Dov'è che stai tu lì? No, ma so scemo! No! 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 Non ti sparo la scuola la scuola! No! Va di raggio! Va di raggio! Va di raggio! Va di raggio! Angela! Sotto! 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 Anche i cecchini! Anche i cecchini! Ti ho detto! Anche i cecchini! C'era una pozione scudo Dagli la pozione scudo Raga 3 contro 2 Oh cazzo Bravo Vai 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 di jump jump fa qualcosa pusha Non c'è un jump fra Allora vai da loro vai da loro corri 1 2 3 4 Aspetta fa vedere qui 5 c'è una jump 6 8 9 10 Vai cazzo calmerla è una baffa un po' E' uguale jump 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 E' ma proprio il cazzo E' un po' Non c'è dove c'è male ecco Sì 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 Una terra Una terra Colpito Bravissimi 5 kill Mamma mia Oh raga mi si è bugato Ecco Mamma mia Quello con più kill raga Wow Ciao No No No